È un cane buonissimo, abbaia solo perché vuole essere accarezzato, vuole essere preso in considerazione. Purtroppo io la bocca non gliela posso tappare, questo mi dispiace che poi lui magari dia fastidio ai vicini, però è il suo modo di esprimersi. Iggy ha un anno e mezzo e fa parte della famiglia di Carmela sin da piccolo. Lei, quando era ancora a Napoli, prima di trasferirsi al vallato di Fano, lo aveva regalato a sua figlia, un nuovo amico a quattro zampe, un barboncino tanto amato ma con un piccolo difetto, abbaia un po' troppo spesso. Una situazione che evidentemente è diventata insopportabile per un vicino di casa che ha deciso di lasciare un biglietto con su scritto Siete dei gran maleducati e degli irrispettosi, se non prendete dei provvedimenti a riguardo saremo costretti a chiamare le autorità competenti, se neanche questo funziona elimineremo definitivamente il problema. Cane avvisato, mezzo salvato. Quando avete trovato il foglio? Allora, all'inizio settimana, quando pioveva, sono uscita dall'ingresso principale per prendere l'ombrello e ho trovato un bigliettino tutto bagnato lì per terra. Ho detto, beh, cosa sarà? Sono andata a leggere ed erano delle minacce rivolte al mio cane e prima di tutto hanno usato dei termini un po' molto forti nei miei confronti senza neanche conoscermi. In più mi sento violata perché il biglietto l'ho trovato lì, quindi sono dovuti entrare in casa mia. Potevano metterlo lì nella posta, tranquillamente. Ma qualcuno è mai venuto da lei per parlare di questo problema? Non mi piace perché se fossero venuti anche a bussarmi, a dirmi la problematica, magari avrei chiesto scusa, se chiesto di pazientare un attimino perché comunque lo sto portando da un medico comportamentale, lui prende adesso delle medicinali per stare più tranquillo. Mi avrei offerto un caffè, avremmo fatto una chiacchierata, ma così no. È brutto, è brutto. Sentire minacciare un animale fa male, è come se mi avessero toccato il terzo figlio. Nascondersi dietro un foglio con cattiveria, prosegue Carmela, non è un bel comportamento, tant'è che la donna ha deciso di rivolgersi subito alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Infatti anche i carabinieri l'hanno detto, signora, tenga pazienza, ci faremo vedere un poco in giro per vedere un pochino, insomma, se riusciamo a capire chi è stato. Ha dei sospetti lei, un vicino di casa? Allora, guardi, le villette sono queste, non so, possono essere quelle più vicine dal lato di qua o dal lato del garage, insomma, quelle nei dintorni, però non le so dire. La mia vicina sicuro no, perché lei comunque ci gioca col cane dal primo giorno. Noi ci siamo trasferiti qui da un anno, ma non conosco nessuno, perfettamente nessuno. Poteva essere anche un modo per stringere amicizie. Esatto, esatto, anche perché noi siamo una famiglia grande, ci piace stare in compagnia, e mi sono sentita trattata male, ecco. Grazie a tutti.